Il mio lavoro con il Gens, eh? Non pignettare, eh? Una mica, sto scappando, una mica, stazione palestina, Comoroma 402, Juventus-Napoli, Comoroma 402, Juventus-Napoli, stiamo col profano, sto scappando, direzione Porto-Nazio, vai, 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 viva, 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 viva! Azzurra, adesso, da, qui, verso Porto-Nazio, stai a dietro, stai a l'auto, è rubata, eh, porta Maggiore? Sì, con la D-Bortina, o questo qua, non c'è niente, in semi-gradatore da 4-6-1, Juventus-Napoli, rubata, stiamo andando verso, verso la D-Bortina, verso la D-Bortina, non si ferma, è morto, 3 funzioni a bordo, Azzurra, adesso, con l'incrocio con la D-Bortina, con l'incrocio con la D-Bortina, azzurra, eccomi, ce l'hai davanti, collega, ferma, attenzione, ce l'hai davanti, ce l'hai davanti, la migra, la migra, la migra, la migra, la migra, abbassiamo la D-Bortina, contro il m***o. Sì, 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 Sì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti